Al parcheggio Pietri si era scagliato contro un giovane non vedente ma la sua furia purtroppo non si esaurisce qui. Il ragazzo si sarebbe infatti reso protagonista di altri due episodi violenti, uno in piazza Sant'Agostino ed un altro alla multisala. Sono così almeno tre le aggressioni riconducibili allo stesso giovane, non ancora maggiorenne, ed adesso trasportato nel carcere minorile di Firenze perché ritenuto pericoloso come disposto dal GIP del Tribunale dei Minori di Firenze su richiesta del Procuratore della Repubblica. Decisiva ai fini dell'emissione del provvedimento anche il coinvolgimento del ragazzo in almeno due episodi nei quali avrebbe dimostrato un'indole particolarmente violenta e pericolosa anche avvalendosi della forza intimidatoria del gruppo di cui faceva parte e con il quale agiva in queste circostanze. Il primo risale appunto alla fine dello scorso agosto. Il ragazzo avrebbe aggredito alla multisala un 24enne con pugni al volto e sulle orecchie che agionando gli lesioni giudicate guaribili in 19 giorni. L'altra aggressione invece si era consumata i primi di settembre in piazza Sant'Agostino, vittima in questo caso un 44enne che prima era stato avvicinato da un ragazzo che gli chiedeva una sigaretta e poi derubato dell'intero pacchetto. Alle sue proteste era stato colpito con un forte pugno sul volto che gli aveva provocato la rottura del setto nasale. Adesso l'arrestato è stato così condotto presso l'Istituto Penale per i Minori di Firenze. Grazie 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 Grazie